Si parla di antiquariato, di bellezza, di arte e si incastra benissimo con la mostra che è già in itinere, la mostra Signorelli 500. Quindi siamo molto soddisfatti, è una grande organizzazione. Ringrazio per questo il presidente di Cortona Sviluppo, il direttore della mostra Furio Velona, l'assessore alla cultura, tutta la maggioranza e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa 61esima edizione. Una mostra che oramai fa parte integrante del calendario annuale degli eventi a Cortona che dà grandi soddisfazioni al territorio. Tra l'altro c'è da dire una cosa, che la mostra che voi avete inaugurato a giugno è stata giudicata la mostra forse più importante di quest'anno a livello nazionale. Perciò la Fiera Antiquaria si accoda a qualcosa di veramente? Sì, diciamo che la mostra Signorelli ha raggiunto obiettivi molto importanti, siamo oltre 11.000 visitatori già e abbiamo veramente complimenti da tutte le parti del mondo, quindi siamo molto contenti. Ma in questo contesto, come dicevi bene, si incastra anche la mostra Cortona Antiquaria che fa parte, ripeto, come ho già detto, del calendario degli eventi cortonesi e che porta anche interesse non solo turistico ma anche culturale e anche economico in un complesso che è il complesso di Sant'Agostino che è meraviglioso. Poi tra l'altro gli ultimi anni avete fatto dei passi da gigante anche per la Fiera Antiquaria perché c'è una giuria, i pezzi sono assolutamente eccezionali, sono scelti, la grande qualità. Sì, è salito molto il livello, questo è vero, più abbiamo anche quest'anno la fortuna di avere con noi Vittorio Sgarbi perché daremo il 27 agosto il premio Cortona Antiquaria con Vittorio Sgarbi e il premio alla professionalità e anche a quello che è l'ambasciatore nel mondo che è Francesco Santucci quindi daremo anche un premio a Francesco Santucci. Quindi diciamo che la cortona Antiquaria è ricca anche di collaterali come i macchiaglioli che andremo a vedere a breve che è proprio di rimpetto a Sant'Agostino che quindi anche essa darà slancio a tutta l'attività della mostra ma a tutta la città di Cortona.